SANA SANITÀ Il titolo di questa puntata è NESSUNO ESCLUSO. Per spiegarci questo titolo, NESSUNO ESCLUSO è un progetto che ha questo titolo. Per spiegarci questo abbiamo ospiti la signorina Cristina De Stefanis e il signor Beppe De Franco, vecchia conoscenza dei lavagnesi. È un progetto questo che è finanziato dal Comitato Assistenza Malati di Guglio e si tratta praticamente di un rinnovo. È vero? Esattamente. Infatti il progetto ha preso inizio a partire dall'ottobre 2013 e in questi anni ha mantenuto le sue attività coinvolgendo a poco a poco un piccolo gruppo di persone che partecipano con continuità alle attività del progetto. Signor De Franco, il progetto di che cosa consiste? Io intervengo come volontario in questo progetto, intervengo dall'inizio del 2013, dall'ottobre 2013 e consiste per due giorni alla settimana, abbiamo sempre utilizzato i giorni di lunedì e venerdì, per raccogliere, riunirci, ritrovarci al centro acquarone con un gruppetto di persone che non sono anziane per cui assistibili come tali e non sono più giovani. Sono persone che avendo un'età intorno ai 50, 55, anche 60 anni hanno la difficoltà nel gestirsi, autogestirsi. Spesso sono soli e quando invece c'è la famiglia è un modo per alleviare il problema alla famiglia stessa e farli partecipare a pieno titolo a questo progetto. Che altro non è che riuscire a essere in compagnia, a condividere alcuni momenti e soprattutto uscire da casa. Questo è un reinserimento sociale di persone anche diventate disabili? Esattamente. E' vero? Sì. E quindi il percorso di questi disabili com'è? Da quando succede un ictus, una trauma, un incidente? Com'è il percorso di queste persone? Diciamo che in un primo momento le persone che acquisiscono la disabilità nel corso della loro vita, sia in età giovanile che in età adulta, subiscono una massiccia presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, quindi con prolungati ricoveri ospedalieri e in strutture di riabilitazione. Tuttavia i problemi intervengono al momento della dimissione. Cioè fanno tanti ricoveri, questa gente non viene ricoverata una sola volta, hanno diversi ricoveri generalmente, magari vanno anche in riabilitazione. Esattamente, esattamente. Quando si è finito tutto questo percorso, queste persone purtroppo si trovano a dover fare i conti con la quotidianità, però alla luce della nuova condizione di non autosufficienza. E spesso e volentieri purtroppo anche in uno stato di forzata fuoriuscita dal mondo del lavoro e dalle proprie rete sociali. Quindi c'è questa diagnosi di non autosufficienza. Esattamente. Arriviamo a un punto che quando nessuno vuole più questo malato, vuole tra virgolette, però non se ne cura più nessuno. E allora? E allora lì arrivano i problemi, perché arriva il chiudersi, arriva l'isolamento, arriva il sto bene a casa mia. Allora, se esco e c'è il marciapiede, c'è la barriera, c'è l'impedimento e qualcuno pensa anche di essere magari guardato come, come si diceva una volta, proprio come un disabile. Sì, ma qui quando intanto il disabile che ha qualche mezzo di sostentamento si aggiusta con aiuti vari, ma quando il disabile viene dimesso ed è senza risorse, cosa succede? Beh, proprio in questo caso è importante una presa in carico, oltre che dai servizi dei diversi comuni di residenza, anche da progetti come il nostro, che comunque offre un'occasione di socializzazione e di risocializzazione per persone che in caso contrario sarebbero isolate. Una vita da ricostruire. Sì, esattamente. Esattamente, una vita da ricostruire. Ora, questo impatto psicologico della disabilità acquisita, lei parte in causa anche? Beh, ognuno di noi ha i suoi modi, i suoi tempi e le sue reazioni, è chiaro però che se arriva una mano dall'esterno e questo progetto lì vuole andare, lì vuole giocarsi le sue carte, allora è più facile. Perché in effetti questo progetto rinserisce in modo, se si può dire, normale, che poi diventa il momento eccezionale. Perché andare a fare la spesa, condividere il pranzo assieme, fare una passeggiata lungo il fiume. Si ritorna a una vita più o meno normale. Sono persone sane che improvvisamente diventano disabili. Il dramma di queste persone. La vita può cambiare nello spazio di qualche centesimo di secondo e lì si passano veramente momenti brutti. Cambia il modo tutto completamente. Si vede la vita addirittura da un'altra angolazione e ripeto quello che dicevo prima, ognuno di noi ha i suoi tempi, ha i suoi modi, le sue reazioni. Ed è chiaro però che una mano, e questo progetto appunto lì vuole arrivare, è fondamentale per poter supportare chi magari è più fragile. Offrire una struttura di accoglienza. Siamo nel solco della predicazione di Don Nando qui mi pare. Certo, certamente. Diciamo che il centro mette a disposizione al suo interno attualmente una sala attrezzata e positivamente delicata, dove il gruppo si riunisce nelle due giornate che diceva prima Beppe e addirittura è intenzione dell'ente ristrutturare uno spazio. La famosa casetta? Esatto. Uno spazio esterno ma sempre sito nel cortile perimentrale del centro. Senta, il progetto in pratica, veniamo un po' al dunque. Quanti disabili possiamo ospitare? Più o meno. Attualmente il gruppo è composto da cinque persone con disabilità. La scelta di questi disabili come avviene? Chi arriva prima, come? Vengono scelti in base alla disabilità, allo stato del benessere di queste persone o come? No, diciamo che le persone che noi conosciamo, che si rivolgono a noi e che quindi lamentano un po' le condizioni che dicevamo prima di isolamento, di solitudine, noi svolgiamo un colloquio, io insieme ai due operatori che partecipano all'attività del progetto, insieme anche a Beppe a volte, e poi da lì se c'è l'interesse da parte della persona e se chiaramente non vi è una compromissione sanitaria elevata, si prende parte al progetto. Saranno ospitati in questa casetta che state ristrutturando, è un immobile piccolo staccato dal Benedetto Aguarone, no? C'è anche un giardino lì, quindi contate anche di farli un po' passare il tempo a fare giardinaggio, no? Sì, diciamo che questa casetta, essendo sita nel cortile perimetrale del centro, come dire, da proprio anche su spazi verdi, e specialmente nel periodo primaverile, autunnale, anche estivo, può essere sfruttato da parte degli ospiti. Signor Beppe, lei parlava di cucinare e mangiare insieme. Sì, questo è un momento fondamentale, questo. Esatto, esatto. Il dare, come dire, vita a... Una specie di famiglia. Esatto, condividere quei momenti che sono, ripeto, vita normale. Quanti di noi si occupano di queste cose e non pensano che sia una cosa straordinaria, è assolutamente naturale. Sendersi a tavola insieme è un momento molto bello. E poi lì in casetta ci sarà anche l'opportunità di fare, proprio, di partecipare, proprio a preparare qualcosa, a cucinare. Sì, so che avete intenzione di acquistare una lavatrice, vediamo poi se qualcuno la regalerà una lavatrice, per lavare la biancheria, per... raccontate un po' il progetto. Sarebbe senz'altro ben accetta. Sì, la nostra intenzione è quella di inserire all'interno di questo spazio una cucina attrezzata e accessibile per persone con disabilità e quindi su carrozzina, in modo tale che poi a seguito dello svolgimento di piccole commissioni al mattino, gli stessi ospiti possano preparare insieme, ma con l'aiuto e la supervisione degli operatori, il pranzo che poi consumeranno insieme. E la lavatrice offrirà loro la possibilità di svolgere il bucato sempre sotto la supervisione e con l'aiuto degli operatori. Quanti giorni, l'avete detto, due giorni alla settimana? Quante ore al giorno? Cominciamo alle 9 e mezzo, sino alle 15, 15 e 30 volte. Come raggiungeranno questa sede, raggiungeranno il Centro Aquarone questi disabili? Noi abbiamo una rete di volontari che appartengono all'Associazione Villaggio Volontariato che in questi anni hanno aiutato e hanno supportato i partecipanti al progetto, quindi nel venire nel trasporto al centro e dal centro a casa. E la presa in carico come avviene? Noi facciamo, come dicevo prima, un colloquio dove cerchiamo di analizzare quelle che sono le necessità, i bisogni della persona e anche i desideri delle persone, perché il progetto si caratterizza proprio per anche proporre delle attività che vengono richieste da parte dei partecipanti al progetto. Gli educatori? Sì. Chi ci sarà lì a governare tutto questo? Abbiamo due figure che hanno ruolo di facilitatori delle attività, nello specifico una figura femminile, è un'operatrice sociosanitario e una figura maschile sta acquisendo un titolo di operatore sociosanitario. Mi parlava di un piccolo rimborso a spese. Sì, gli ospiti, proprio per garantire una maggiore continuità al progetto, partecipano con 5 euro, con il contributo di 5 euro al giorno, però prevede anche il consumo del pranzo. Lei tenga presente che uno, se non hai 5 euro, provvederemo a tirare fuori questi 5 euro. Non credo che siate fiscali, chi ce l'ha li mette, chi non ce l'ha non li mette. La giornata dei disabili come viene articolata? Beh, intanto mi piacerebbe fare una piccola premessa. Ecco, questi 5 euro, in questi 5 euro è compreso il pranzo, però così per parlare proprio in modo spiccio, chiunque di noi mangia a casa proprio, 5 euro li spende. Per cui, poi diciamo, questo progetto ha la fortuna di avere da un lato l'Associazione Malattia di Tigulio che lo finanzia e da l'altro l'acquarone che lo ha pensato e lo porta avanti. La giornata degli ospiti, delle persone che sono state accolte, si svolge praticamente dall'inizio, da quando arrivano accompagnati da uno dei volontari, si comincia con il ritrovarsi per programmare la giornata. Qualche volta è già stata programmata la settimana precedente, per cui i programmi sono andare a fare magari la ricetta dal medico, andare a fare le prenotazioni all'Asla, andare al supermercato per la spesa, andare a fare una semplice passeggiata o a prendere il caffè al bar. Andare dal barbiere, andare... Le cose più normali di questo mondo, le cose più normali che le persone normali fanno tutti i giorni senza pensare di fare cose straordinarie. E i vantaggi di queste attività, lei pensa che siano grandi? Che vantaggi portano a tutto questo? Intanto una persona che possiamo dire, passatemi questo termine, che si ritrova agli arresti domiciliari senza aver commesso alcun reato, ha la possibilità di uscire di casa e di stare in mezzo alla gente nel modo più completo, più normale e questo per due giorni alla settimana. Se poi ci fossero i soldi si potrebbe anche prolungare, no? Sì, diciamo che prima di questa esperienza non c'era niente, ora c'è questo che magari non è il completare la settimana, però è tanta, tanta, tanta fortuna. I rapporti con le famiglie? Sì, diciamo che le famiglie vengono coinvolte fin da subito, spesso sono le famiglie che ci contattano, sono i familiari laddove presenti. Poi noi facciamo una visita domiciliare, quindi il primo colloquio avviene anche in presenza dei familiari. Noi ci proponiamo anche come servizio di sostegno e di sollievo nei confronti dei familiari. Oltre che vantaggi immediati per gli ammalati, per queste persone disabili, si fa un bel lavoro nei confronti delle famiglie, la leggeriamo un po', un po' di sollievo. A cominciare da uno scambio di informazioni, a cominciare da dare tante notizie magari su cose, ripeto, importanti per chi magari non sa come richiedere una sedia a rotelle, come avere la possibilità di farla riparare, aggiustare, ma ripeto, tutte cose che diventano cose assolutamente normali. Ecco, sentite, facciamo un po' di ping pong, qualche domanda veloce e risposte veloce, così possiamo camminare un po'. L'emarginazione delle persone disabili. L'emarginazione è il problema del disabile. Persone colpite nel corpo e nello spirito. Non è solo il corpo che viene... Non è solo il corpo e lì, poi, quello che io dicevo prima, ognuno di noi ha i suoi tempi e le sue reazioni ed è chiaro che un supporto, una mano, un consiglio, il solo fatto di sapere che posso rivolgermi a qualcuno per avere qualche notizia, qualche informazione, è fondamentale. Una mano. La volontà del disabile. Beh, è senz'altro un aspetto fondamentale. Infatti, come dicevo prima, noi, sulla base di quelli che sono i bisogni, i desideri degli ospiti, organizziamo parte delle attività. Le nuove amicizie. Ecco, le nuove amicizie fanno crescere la voglia di uscire di casa, la voglia di mettersi in discussione, di, come dire, autosfidarsi. Ecco, noi abbiamo avuto un caso tra i nostri ragazzi, uno dei nostri ospiti che non poteva più guidare e io, forse non è bello che lo dica, ho fatto un po' d'esempio. Quando io sono arrivato e mi avvisto, guido, scendo da solo dalla macchina, riesco a manovrare la sedia a rotelle autonomamente, allora si chiama Fabio, questo nostro amico, Fabio dice, ma allora, ma allora si può fare. E lui oggi guida una macchina. E' questo che conta. Guida. I nuovi interessi. Ecco, i nuovi interessi diventano, come dire, riaffiorano vecchie passioni, vecchi hobby e si coltivano, si possono coltivare condividendoli con gli altri e con gli altri, come dire, discutendone, parlandone, condividendoli, ecco proprio, questo è il termine corretto. Stimolare le potenzialità di queste persone. Diciamo che questo gioca un ruolo importante all'interno del progetto perché il progetto è volto, oltre che alla socializzazione e risocializzazione degli ospiti, anche a favorire, a promuovere lo sviluppo e il mantenimento di sempre nuove forme di autonomia. E quindi stimolare anche la capacità di comunicazione perché tanti si chiudono. Questo è una cosa... Questo è il dramma, questo è il dramma. Noi possiamo dirlo, 30 anni fa si vedevano molte meno persone con difficoltà per strada, nei negozi a fare la spesa. Oggi, se non tutti, direi un buon 90% riesce... Abbiamo dei campioni olimpionici. Abbiamo dei campioni olimpionici. Per cui abbiamo... e loro sono una grande forza, un grande esempio. Il nostro amico Vittorio Podestà è stato nostro ospite alla Quarone, è venuto, l'abbiamo conosciuto tutti e ha fatto, se si può dire, una vera e propria lezione. I livelli di autonomia. Sì, diciamo che purtroppo con la disabilità, in particolare con la disabilità acquisita, questi specialmente in un primo momento tendono ad essere molto bassi. Il progetto intende promuovere lo sviluppo e il mantenimento di sempre maggiori forme di autonomia. La cucina e la lavatrice ne sono un esempio. Ecco, in questo contesto, chi è che tira le file? Lei, lei... Chi è che dirige un po' l'orchestra? Dirige l'orchestra, insomma, è una parola grossa. Tra virgolette. Diciamo che io mi occupo un po' di organizzare. Non sarà solo dietro la scrivania, andrà in prima linea anche, no? Certo, sì, sì, ogni tanto vado anch'io, diciamo, partecipo a determinate attività. In particolare però mi occupo proprio della prima fase di colloquio con le persone che richiedono di partecipare al progetto. Signor Beppe, vivere insieme. Ecco, questo è, come dire, uno dei motivi che hanno, come dire, portato poi a questo progetto e alla realizzazione di questo progetto. Ognuno, ognuno di loro, ognuno di noi, fa ad esempio all'altro. E per cui dà stimolo. E per cui, se si può dire, riuscire a togliere l'alibi di pensare se sto a casa non ho problemi. Ecco, invece se esco, non solo risolvo qualche problema, vedo, conosco, ma faccio da esempio e per cui mi confronto con gli altri. È una base per un futuro migliore questa. Esattamente. Supportare concretamente, che cosa significa? Ma nel nostro caso, per esempio, le uscite quotidiane che vengono svolte nel progetto assumono una funzione di supporto allo svolgimento di quelle che sono commissioni personali, la spesa, l'accompagnamento, lo svolgimento di pratiche presso uffici o enti. Questo assume effettivamente un supporto concreto. Come si può verificare? Ora noi abbiamo esposto un progetto ai nostri telespettatori, io spero che i nostri telespettatori entino in questo problema, perché avremo bisogno anche di tutti questi telespettatori. Ma come si può verificare la validità di questo progetto? Ma io penso che il ritorno che noi abbiamo da parte dei nostri ospiti penso che sia l'elemento di maggiore importanza rispetto alla validità del progetto. Come reclamizzare questo progetto? Reclamizzare per poter poi cercare di averne altri finanziamenti per allungare, per allargare questo progetto. Direi parlarne, informare e ognuno di questi nostri amici, di questi ospiti che si fa da veicolo per poter farlo conoscere. Questo è importante perché anche se solamente a titolo informativo, solamente per vedere come e cosa posso fare, dà una mano, dà una grande mano a chi si trova in queste particolari condizioni. Devo chiedere una cosa. Negli anni scorsi, perché è già un po' che va avanti questo progetto, sono accaduti dei casi di aver dovuto rifiutare dei pazienti oppure avete accontentato più o meno tutti quelli che si sono rivolti a voi? Ma diciamo che non è mai capitato. Io sostituisco da poco la collega che ha fondato il progetto, Luisella Vespa, però da quando io partecipavo al progetto non è mai capitato. Insomma, a parte forse una volta in cui non c'erano proprio le condizioni sanitarie per poter permettere una partecipazione. Creare interesse nei privati e nelle aziende. Prima abbiamo parlato di creare interesse nelle persone che potrebbero usufruire di questo servizio, ma bisognerebbe creare interesse anche in privati che potessero esborsare una cifra per poter allargare questo progetto, prolungarlo, eccetera, eccetera. E anche altre aziende potrebbero entrare in questo... Non le rifiutiamo mica. No, certo, assolutamente. Se arrivassero persone a dire io finanzio un tot per andare avanti a questo progetto, per allargarlo, per migliorarlo, come si potrebbe fare per raggiungere queste persone private, queste aziende? Io credo, dico cose normali, per cui non ho, come dire, la bacchetta magica per poter dare consigli e per poter riuscire. Però credo quello che è importante è spiegare alla gente, sapere quanto è importante che una persona con difficoltà possa, come dire, avere una speranza di vita e di vita normale. Questo è incredibile, ma è una cosa... Questo va bene, bisogna farlo. E a fianco bisogna fare anche, dare dei resoconti, mettere, far vedere come vengono spesi i soldi, per cui le persone sanno che questi soldi vengono spesi bene, a vantaggio di queste persone disabili, che poveracce erano sane e sono diventate disabili. Quindi sarebbe una cosa molto bella poter... Perché, vedete, quando si mandano... Oggi vediamo che si mandano tanti soldi lontano, in terra e lontano, e poi abbiamo le viserie qui vicino. È vero. Ora, la carità è carità, vicino e lontano. Però tante volte, non so perché fa più colpo mandare i soldi in terre lontanissime, e qui ci giriamo di là, ci voltiamo da un'altra parte, e potremmo spendere i soldi in questo modo. Cosa ne... Ora, non voglio starci il vostro pensiero, però... Io dico, chi si rivolge a questo progetto unisce due problematiche. L'aspetto economico, perché non naviga certo in buone acque, e l'aspetto fisico e psicologico. Per cui, un po' prima si era accennato, chi ha dei mezzi, chi può permetterselo, diciamo pure che ha, come dire, badante, ha aiutanti, ha assistenti, eccetera, e per cui se lo autogestisce. Chi invece, insieme al problema fisico, psicologico, ha il nuovo condizion, adattarsi a queste difficoltà, eccetera, ha il problema anche economico, allora questo progetto è stato veramente una fortuna. Ecco perché i nostri ospiti, noi ci sentiamo anche quando il progetto viene per qualche tempo sospeso, è già capitato, adesso noi riprenderemo presto, comunque ci teniamo in contatto, anche semplicemente per uscire, fare una passeggiata e andare a bere il caffè, ecco, anche solamente per un'ora. Sì, sì, per mantenere... Perché è un peccato abbandonare questa socializzazione, perché questo progetto, il nome, il primo nome era socializzazione di disabili acquisiti, invece avete cambiato il nome, vi pare anche più bello, nessuno escluso, quindi mi pare. Ecco, noi abbiamo terminato con questa chiacchierata, testata breve, l'avete visto, è passata in due minuti. Noi abbiamo cercato, cari telespettatori, di illustrarvi questo progetto. Se qualcuno si vuole avvicinare a questa cordata, benvenga e tutti insieme, come sempre, diciamo che l'unione fa la forza. Noi vi facciamo tanti auguri, vi ringrazio di essere venuti, e sempre, signor Beppe, lei deve essere l'alfiere, deve essere la bandiera di questo progetto, perché lei ha una storia meravigliosa alle spalle, l'abbiamo raccontata un tempo, la racconteremo un'altra volta in un'altra trasmissione. Io ringrazio il nostro regista Alex Appollaro, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Buonasera.